Buongiorno a tutti, io sono sempre io, il vostro Adonio benvenendo questo video si divide in due parti la prima parte è il like reaction alla partita la seconda parte, la seconda parte invece è il commento a caldo alla partita tiepido, a freddo, insomma comunque è il commento alla partita voglio parlare di Gepinelli, iscrivetevi al canale, non fate l'occasione iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale siamo pronti? Guadalanta sta in forma loro sono la Dea e noi pare che stiamo facendo una Dea ospitale non voglio dire niente, speriamo, incrociamo le dita non voglio dire niente, non voglio dire niente, è finito il vaccino come ci fa? se questo video raggiungi 100 like io mi taglio un buff se ne raggiungi 50 io mi taglio la barba se invece non raggiungi 50 like io mi taglio i capelli quello poi non è una cosa particolare io mi faccio vedere la partita forza sempre, la ciove è tiravente però come si dice, forza sempre è benvenente Pippo, guarda Gepinelli, non puoi prendere l'umbrella come sei sotto là? è trattato pure Casperi se sta buona Casperi ti ha la gara di tutti i denti Casperi si non fa buona Casperi, mi pare sergi un parcheggiatore con chi lo capisce mamma mia, mi manco vedete che passaggio hai avuto a volo mamma mia fuori uff ragazzapato eh lo ho comandato in Italia oh Dio grandissimo Montipò Montipò io comunque Montipò è un grande portiere veramente forse è stato uno dei più grandi portiere che abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni dopo Cragno Montipò vai ! vai la padulla vai Bueno bella sta bene con la padulla che hai fatto ? pichiala pichiala lecesto non lecce al gebbino il proprio lei lo ha passato in mezzo a tutti quanti o che combina si è una deviazione c'è una deviazione mamma mia quello Casperini ti... ti... Casperini tu vuole essere purgata Casperini tu vuole essere purgata FROILER! 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 E' pigliato il palo! FROILER! Rattati i capelli! FROILER! Dine zecchi i capelli! FROILER! Mamma mia quello il palo è ancora altrimenti... No! No! Pigliato! Pigliato! Ufff! Ok! Va bene! Va bene! Va bene così! Oddio! E' finito il primo tempo! L'Atalanta è quello che è! E' forte! E' forte! Attacca il tamburo battendo! Mannaggia! Ci hai fatto capisci niente! Non ti posso a fare certe cose che... Secondo me fino a ora, vedendo il primo tempo, è stata la migliore squadra che mi ha avuto migliorito! Secondo me è una squadra così forte! Non mi ha avuto! Però comunque in tutto questo campionato di Serie A l'Atalanta è stata la migliore due campionati! Adesso, ora si contati! Aspettiamo! Ciao! Sì! Sì! Adesso andiamo a fare un secondo tempo! Adesso andiamo a fare qualcosa! A costruire! Magari facciamo pure... Non voglio decidere! Non voglio decidere! Allora facciamoci un segnale, lui c'è! il passaggio perfetto vi deco passaggio si trova sull'annanzia a monte pomero ma la che tirata fuori grande 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 marco marco sa vi deco passaggio perfetto vi dec cross, vi dec passaggio perfetto ecco il marcosau si è buttata sotto e con la goccia c'è arrivata grande marcosau, grande marcosau, grande marcosau 1-1, sta miucendo pure lui ha lasciato un pochino, ha lasciato un pochino e forza sempre, 1-1, 1-1 capo dalla partita e forza sempre in ogni dove uuuu, uuuu, marcosau, uuuu, marcosau uuuu, maaa uuuu, l'ho ripigliato Montipò, sempre che lui li ciccio per me se li cicciata si è sceso, ma mannaggia mi dico che fatti li ciccio per Montipò ha ripigliato chi è che ha ribattuto, fammi vedere mo navy maMP anche mentre fai i fatti tuoi Montipò ha ripigliato quest'un pochino non davanti da più si viuà prima si fica prima la passaggio sulla destra dalla destra alla sinistra e su Zapata io li ci... ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ma perché non ti spiezzano poco se hai totta corna? invece di venire a giocare perché non ti spiezzano se hai totta corna? ti declinano lo Zapata Zapata va a Zapata a terra Zapata ti metti una bella Zapata a mano e va a Zapata a terra invece di giocare al pallone così forte 3 e 1 stai a fare la gente così bella da un po' mezzo e capito niente boh 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 non è uno, non sono due ma sono tre guarda ceci il pinè uuuuuh grande Montipò uuuuuh mamma mia che stia facendo una guatta pocherissimo e Marinochki Marinochki uuuuuh madonna mia sempre sono un Montipò c'è chiuso la specchia la porta che è Marinochki come si chiama Marinochki, Marinochki come si chiama? perché questo so forte assedato di sangue non te non lo diventavo niente manca Dragula tenevi i canini a così spugna che qualcuno accussisse accussiare uuuuuh mamma mi aiuto prego la cap non lo fa la marca la marca uuuuuh mamma mia mamma mia uuuuh chiudilo 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 io mi řidi ancora la partita non lo faccio io mi řidi ora stubborn Ma io Muriel l'è fatta un euro-goal! Euro-goal! Mannaggia Muriel! Mannaggia Geppinella! Muriel! Mannaggia tutti i Geppinella! Quattro e uno! Quattro a uno! Uno a quattro! No commento! Non ci è passata che è questo! Forse ci sia bisogno di questo! Una Geppinella! Una Geppinella! Una Geppinella! Una Geppinella! amoretti ma non dici nessuno amicoli, streghe streghe che cosa dobbiamo dire in questa partita abbiamo a dire non sono queste le partite che dobbiamo vincere non abbiamo a famo perchè ci vedete qualche commento che dice un po' che ha dormito, un po' che stai alla disciplina c'era nessuno che poteva venire non c'era nessuno c'era tui, non c'era Iago Falc, Mo, Viola Moncini, Caldirola teglio, non c'è bene teglio come mi manca chi lo teglio troppo bello, ci siamo a caprare chi le pippariello all'intervista dopo la partita ha detto diamo spazio ai giovani nelle necessità dobbiamo fare virtù e infatti è buttato a nanzo a due aiuno, due giorni due sotto, come si chiama? due mila, i millennium che comunque non è giocato male, voglio dire non vi scordate che il gol di nostro meraviglioso Marco Sao un certo pastina fatto un kilo grosso, troppo bello, preciso perfetto, proprio un kilo marcosello, lungato il kilo cuscione otto chilometri al mese, boom e buttata la pallata primo gol, Ilicicci mannaggiusa Cicci e Ilicicci Ilicicci ma io, anna Gipinè pareva proprio scesa dall'arco del cielo era in forma smagliante fatta assi questa gol, un po' che si faceva pure la doppietta, anna Gipinè ma di chi capo primo gol Fulon, fulon mannaggia culon mannaggia un papiglion che stiamo mannendo i mignoni invece buttata la pallata boom e buttata la rete mi ha fatto un'incenuità perchè chissà appena sbagliata stiamo inserendo, ah no appena sbagliata, boom mannaggia Cicci e Ilicicci però la verità questi atalantini questi bergamacchi, questi bergamotti si chiamavano Robbici eh, vabbè io, mannaggia Cicci e Ilicicci è la squadra più in forma del campionato oh, l'Atalanta l'anno scorso veniamo poi insieme ai finali di Cicci e Ilicca poi c'è stato Toloi i martecci tooi poi c'è stato Zapata poi c'è stato Muriel Muriel, mannaggia Cicci e Ilicci non è che ci sta troppo da dire se non che noi comunque abbiamo giocato la squadra comunque c'è è compatta nonostante il grande risultato passivo contro però a me non mi sento da condannare perchè comunque la squadra è bella come si fa? il spirito di sacrificio se sacrificà pure noi ci siamo sacrificati eh questa è stata la squadra più difficile da incontrare in tutti i campionati e soprattutto in questo momento dopo tre partiti, una rete nata non c'è stato anche un giorno di riposo ora vediamo il discorso combatti concentrati facciamo riposare facciamo fare tutto il pipparillo che emana che emana un paio di giorni di riposo meritatissimo testa allo scrotone questo è un'altra grande finale i fatti di cronaca troppo bello e questo è successo che la tua questa città vi fa troppo divertire se tu hai usato un nuovo mega parkage a via del pomerio hanno scassato una macchina dove come potrebbe venire ma di chi? 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 scassate la capa la prossima mattina la capa fra tu e voi scassate la capa oggi è una giornata marostica intanto grazie per aver visto tutto il mio in questo video e seguimi sempre vaiù non fa l'occasionale iscrivete al canale e forza sé l'abbonamento sta bene poco di pacezza e beh agosto è già passato oh beh tra poco inizia un altro campionato e forza bene vento con te